Ciao a tutti ragazzi, sono da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Red Dead Redemption 2 Ebbene sì ragazzi, eccoci qua su questo gioco, mamma mia, qualcosa veramente di spettacolare Vediamo di non ammazzarci subito andando giù col cavallo Allora ragazzi, ho appena avviato la partita, ve la faccio vedere direttamente di qua Ho saltato diciamo il primo passaggio un po' più tutorialoso In realtà anche se siamo lo stesso comunque sempre nel tutorial Che da quello che ho potuto intendere durerà anche parecchio E adesso ci sta ancora dicendo appunto sulla barra della salute e quant'altro Andiamo un attimino a vedere in questa casa Io lo sto giocando su Xbox One E dobbiamo avvicinarci ai pali Va bene Dove stanno i pali? Questi? Penso qua no? Dove va? Ah ok scende Perfetto E lega il cavallo Buono Ok Va bene, noi due andiamo a non farci vedere Intanto ragazzi, cioè vi voglio far vedere solo cosa lasciamo nella neve Cioè qua è tutto completamente dinamico ragazzi Mamma mia Mamma mia che spettacolo Cioè guardate anche la neve che si posa sul Sul cappello Da per tutto Mamma mia Ok Proviamo ad andare di qua Allora andiamo nel capanno Quindi passiamo da qua Perfetto E andiamo a prendere A premere RB Ok Perfetto Così sbirciamo Da qua Bene Adoro anche riprendere ragazzi Perché è una vita che non prendo più in mano il pad Diciamo che da poco anche l'acquisto appunto della Playstation Della Dell'Xbox One Scusate Allora usare per spostare la visuale Ok Ok C'è un cadavere Ai 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 Ok Proteggi il Dutch Ok LB Ah per la ruota delle armi Perfetto E tiriamo fuori il revolverazzo Ok Allora io tengo mirato in testa quello Ok E penso di dover aspettare loro No? Aia Ok io sparo Ok Quell'altro è andato Poi Dove sono gli altri? 3MB per ricaricare Ah eccolo L'ho visto Ok Ok L'ho andato C'è un altro qua E muori Ok Allora Dai Perfetto Dove Diamine è andato Ah vabbè Scappato Vabbè Non so dove si è andato Me lo so perso Ma comunque Va bene Ok Siamo in Dutch Però Questi li posso lutare In qualche modo No Forse me lo dirà più avanti Vabbè Ok Intanto entriamo dentro Questa casa Mi dai qualcosa No? Oncchio Ok Teniamo premuto X Per prendere Un oggetto Va bene Va bene Allora Prendi Ok Galletta d'avena Va bene Dunque Il nucleo della salute Va bene Qua Apriamo la Bisaccia Ok Dunque Per mangiare Con questo Perfetto Così stiamo a bagnare E va bene Dunque Vediamo se qua nella casa Mi fa trovare ancora Qualcos'altro Cioè intanto Guardate ragazzi La neve che si è sciolta Si sta sciogliendo Dal cappello E dalla schiena Come bagna In maniera realistica Gli indumenti Cioè qualcosa Mamma mia Mamma mia Ragazzi Rimango Rimango veramente Minchioluto Davanti a sto gioco Ok Allora Vai vai Frugano l'armadietto Frughiamo tutto Perfetto Prendi Prendi Com'è AX Perfetto Mais dolci In scatola Va bene Si si Prendi anche La verdura Ok Prendi questo Biscotti Buono buono Fagioli Prendi tutto Vai vai Frutta in scatola Un'altra frutta In scatola Perfetto Poi Cosa abbiamo qua Del sangue Va bene Allora Vediamo se c'è qua Allora Friamo L'armadietto Vai Prendiamo tutto Medicina Vai vai Friamo tutte le medicine Ragazzi Mi sa che sto gioco Ci serviranno Particolarmente Ho idea che Adesso magari Non questo primo gameplay Perché ho finito Adesso l'installazione Sono 100 e bassa giga Cioè ci ha impiegato Tipo Tre ore e mezza Installare sto gioco È stata una roba Assurda E quindi Vabbè Sono già Abbastanza Ora Tarda la notte Quindi infatti Scusate Anche se magari Ho il tono di voce Un po' Un po' Più basso Ma c'è anche Il bambino Che sta dormendo Quindi Abbiate pazienza Sicuramente Ragazzi Vi dico già Che I prossimi gameplay Dureranno Veramente Veramente Tanto Ve lo dico Già ragazzi Quindi preparatevi Perché ho intenzione Di spippolarmi Sto gioco In maniera Veramente Esagerata Perfetto Abbiamo preso tutto Esamina Cosa Posso esaminare Ah ok Abbiamo le sigarette Premium Va bene Poi Ah con questo Ok Va bene Va bene Perfetto E qua Direi che Non ci interessa Nient'altro Dunque lì Non c'è niente Qua non c'è niente Qua c'è qualcosa Esamina La fotografia Ok Ah possiamo anche Cambiare Cambiare la visual Ah così la mettiamo In prima persona Va bene La giriamo Leggi Allora Matrimonio DJ che sedi 7 settembre 1896 Va bene Sì vabbè Non me ne può fregare De neno Dai Allora Mi interessa Capire se c'è qualcosa Che mi posso Inchiappettare ancora No ma direi che Ho preso Credo tutto Ok Andiamoci No Eccomi giovani Ok Noi ovviamente Siamo dei fuorilegge Anche se da quel poco Ho potuto vedere Con una Certa morale Ok Per lustra La stalla Va bene Allora va bene Andiamoci a piedi Non sto a pigliare Il cavallo Ok Per lustra La stalla Ah così Vediamo L'obiettivo Perfetto Cioè guardate Come arranca Nella neve alta Ragazzi No vabbè Che spettacolo Che razza Di spettacolo Sto gioco Mamma mia Io ho adorato Il primo Red Dead Figuratevi per questo Guardate la neve Che si accumula Sui vestiti Che cavolo Chi cavolo è questo Ok Ah ok Con B Ok Interroga Ok Ok Fagli una domanda Fagli una domanda Ok Vai Ah non è stato Il treno Addirittura Dovevo saltare i binari Ok Cazzotto così Tanto per gradire Ok Cosa devo fare Uccidi Risparmia O picchia Vabbè dai Questo qua Lo risparmiamo Va Dai Dai Mi sento buono Mi sento buono Prendi la pistola Dove sta la pistola? Acqua LB Va bene Prendi Raccogliamo anche il cappello Perfetto Ok Per attaccare il cavallo Calma Ah possiamo anche Calmare i cavalli Vai vai Accarezza Guardate i cavalli Come sono fatti bene Mamma mia Ok Conduci Continuando alle gare Col tuo cavallo A crescere La sua fiducia In te Migliorerai Le sue statistiche Mamma mia Che spettacolo Che spettacolo Il cavallo Cioè le animazioni Del cavallo Ragazzi sono qualcosa Di Di Incredibile Cioè mai visto Guardate i muscoli Come si contraggono Realisticamente No va bene Senza parole Senza parole Ok Dove Ti leggo ciccio Scusami Posso legare qua Sì Ok Perfetto Ok Che cosa succede Chi è questa tizio Chi è questa tizia Chi è questa tizia Chi è questa tizia Non ero E' una di loro Odrisco No Non è Michael Guarda Miss Miss Ma Tu Ecco Signori Starebbe bruciando tutto Non ve lo vorrei dire Ma siamo in una baita Non è proprio una cosa Diciamo adatta Eh sì Conviene Conviene Andarcene via effettivamente Andiamo Andiamo Ok Mi è venuto Tre giorni In In Poi Mi è Sì Ok Miss Sei Stato Ora Eh no Direi proprio di no Che non si può restare Come avete visto Si Noi siamo Dei fuori legge Facciamo appunto Parti di questa Banda Adler Sadie Adler Sadie Era il marito Un po' di tempo fa Era il marito Va bene Quello nel carretto Tanto che aveva trovato Il nostro compare Che razza di gioco Che razza di gioco però Porca misera ragazzi Non pensavo Fosse Fosse così Me lo aspettavo Bello Perché vabbè Rockstar Non si smentisce mai Ma così tanto Veramente Cioè Da quel poco Che vi ho visto fino adesso I dettagli della neve I piccoli dettagli Come ho detto Guardate come si accumula Sui vestiti Come poi si scioglie Ci bagna Dove effettivamente Sarà posata Cioè Veramente tanta roba Porca miseria Ok Parlo poco Naturalmente ragazzi Per farvi anche vedere Un attimino Appunto la storia Un attimino I dialoghi Da quello che ho visto Insomma Già dall'inizio Ce ne saranno Comunque parecchi Ok Eccoci qua Di mattina Finalmente Perché se il tempo fa schifo Però Quanto meno è giorno Eh Non c'è male Non c'è male Piccolo John Piccolo John E ti pareva che ci doveva andare noi E mannaccia la miseria Siamo tutti Eh Siamo abbastanza Siamo preoccupati E io Sento La situazione Si è reversata E Si guarda per me Grazie Allora 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 L'ultimo Lo so E John Fuendo al rivelo Al fiume Ok Si Avevano sempre La tormente di neve Beh però Che cavolo di tempo Schifoso Ovviamente Non sarà Tutto sulla neve Eh ragazzi Questo è solo Come dicevo Il primo Pezzo Diciamo appunto Più che altro Tutorial Dove ci fa capire Un attimino Tutte le varie Meccaniche di gioco Ma guardate I cavalli Come diavolo Sono realistici C'è qualcosa Veramente Di Mamma mia Spettacolare Spettacolare No Vabbè Sì No Vabbè Ciao C'è pure La visuale Dinamica C'è Questa Proprio Alla GTA E Tenendo Premuto Perfetto Lui Segue In Automatico Ok No Vabbè Possiamo Anche Cambiar La Distanza Oddio Ragazzi Mi sembra Di essere In GTA Che spettacolo Mamma mia Che figata Spettacolare Ragazzi Spettacolare Ok Sì Un po' stretto Stiamo attenti A non cascare sotto Dai ragazzo Su Dai cavalli In su I cavalli Si stanno Staccando Stancando Sì Ci credo Stiamo facendo fare Le capre No vabbè Che figata Ragazzi Io rimango anche Senza parole Perché Non mi aspettavo Davvero Di vedere Una roba Del genere Cioè Vi dico La verità Non me lo aspettavo Davvero Ok Ah Allora Le B Quelle trasportate Dal tuo cavallo Allora Ah ok Questo Fucile a canne mozze Che figata Mi ha preso Il fucile a canne mozze Sì Perfetto Ok Andiamo Andiamo a piedi Dai dai Andiamo a prendere Sto tizio Che Mi ha già Scassato Le cosiddette Dov'è Ah qua sotto Proprio Ok Vabbè L'abbiamo trovato Eh Si è fatto giusto Un bel graffietto Sì Praticamente Sventrato Mezza faccia Ma va bene Non hai un bel aspetto Per niente Ha pure in spalla Ce lo dobbiamo portare Ah faccia Tu cavolo Non muovere Non muovere Cowboy Come on Compagni Ma andaggia Tutto il viaggio Di ritorno In spalla No Ah porca Miseria Eh infatti Facciamo un'altra strada Magari Sennò qua ci impieghiamo Sei anni Speriamo Speriamo che sia la strada giusta Speriamo No vabbè Pure i lupi No però Che sfiga Aia Mano alle armi Eh si Mi sa che dovremmo Sparare un po' di lupi Occhio Da dove arrivano Ah eccoli là Ok Cacchio 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 Aia Ma vaffanbaglio Che miseria Carognacce Eh ok Scappato Ok via 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 Andamocene Andamocene Damose Ok Qualcavallo Sa anche incazzeto Giustamente Si è spaventato Occhio Allora vai Ok Andiamo Andiamo Dai Siete spicci Javier No vabbè Guardate Quello che perde sangue Lascia le tracce Anche sulla neve No vabbè Che spettacolo Che razza Di spettacolo Mamma mia Mamma mia E poi c'è questo Che figata Con la visuale Dinamica Andiamo Andiamo Sene via Di qua Portiamo Sto tizio A casa A casa Insomma In quella Specie di baracca Che abbiamo Ma ce ne ha altri Lupi Occio No cacchio Dove uscire Lupi Fammi Terla via Ok via Uno l'ho preso Un l'altro Lì Ok Ok Dove Abbiamo più A shopper Tratti Super Nogu Corri 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 Ok 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 Wara Frena 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 Basta Speriamo Porca c'è Eva che botte Ok, premi LB Ok, poniamo l'arma Perfetto Mamma mia Che figata però anche Scontrovi lupi, bellissimo Sì, l'acqua con questo freccio Non è il massimo per questi poveri cavalli Però Vabbè Visuale e dinamica ragazzi È una figata mostruosa Cioè guardate Questa scena che spettacolo Mamma mia E qua ci vengono fuori veramente Di peggio film Porca c'è Eva Ok, che siamo arrivati Meno mare Dai dai che siamo arrivati ragazzi Su Date una mano a tirare giù Sto pistola da cavallo Eh sì, è vivo Ah, guarda Questa è la mano a tirare giù È la mano a tirare giù Grazie a tutti, grazie a tutti, questo è un nuovo rischio, anche per i vostri spingoli. Grazie, Artin, grazie. Hai qualche altra scoperta a salvare? Non oggi. Tu e Dutch abbiamo parlato di come ci siamo fuori. Io avevo parlato con Herr Strauss quando il giro si fa, credo che dovremmo andare all'esterno. All'esterno? All'esterno? All'esterno civilizzazione? Lo so, l'esterno è dove i nostri problemi sono peggiori. Vieni, Herr Strauss, torniamo calmi. Grazie, Mr. Muggie. Perfetto, e qua abbiamo completato la missione. Va bene ragazzi, allora facciamo una cosa. Io direi che mi fermo qua con questo primissimo gameplay dedicato a Red Dead Redemption 2. Vi ho fatto vedere la prima missione, quella un po' più movimentata, perché il prologo era proprio l'introduzione alla storia, ma comunque abbastanza semplice. Noi facciamo parte di questa banda di criminali che sta cercando rifugio dalla legge e quindi ci siamo ritrovati qua. Per cui dovremmo adesso pensare appunto a come andar via da questo posto. Io a questo punto vi chiedo ragazzi alla fine di questo gameplay se volete vedere la storia di tutto il gioco, quindi andrò avanti insieme a voi registrando ogni singolo gameplay, appunto proponendovelo sul canale. Oppure se preferite che vado diciamo da solo off camera fino al punto in cui ci sarà la parte open world, quindi la fine di questo diciamo tutorial, chiamiamolo così tra virgolette, e introduzione appunto alla storia. E magari ci facciamo insieme sul canale solo le missioni secondarie o comunque il cazzeggio diciamo come si faceva sul buon GTA. Quindi mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti, intanto vi dite lasciare un sacco, un sacco di like, condividete per l'appunto commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e se vi va, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto io in descrizione. Detto questo vi saluto e noi ci prechiamo al prossimo gameplay, ciao belli!